Ragazzi, come ben sapete, Trosmart è un brand emergente che punta a fare prodotti con una buona offerta complessiva però al tempo stesso ha anche un rapporto qualità-prezzo che sia degno di nota Dall'altra parte abbiamo JBL che è un colosso del settore, un brand che comunque non teme niente e nessuno e che se ne infischia del prezzo perché i suoi prodotti sa che hanno un appeal già dato appunto proprio dalla fanbase JBL però come ben sappiamo alle volte anche prodotti di questo tipo devono guardarsi da soluzioni che invece puntano grazie a un rapporto qualità-prezzo più elevato, grazie a delle caratteristiche maggiormente attraenti puntano proprio a togliere il trono a questi brand che sono ormai sovrani da anni E sappiamo da anni che il marchio non è tutto E effettivamente il protagonista di oggi è uno speaker bluetooth economico, rugged, che è molto compatto e si tratta della Trosmart Groove 2 questo Groove 2 che si mette in diretta competizione con JBL Go 3 scopriremo però che nonostante delle iniziali somiglianze si tratta di due soluzioni davvero davvero diverse ma quale ha senso acquistare e perché? beh, questo lo scopriremo nel corso della recensione ma prima dobbiamo dare spazio alla nostra sigla E ben ritrovati amici di Dintech Io sono Filippo Io sono Mirko Iniziamo Unboxing e confezione Eccola, recuperala Mamma quanto pesa Allora, confezione abbastanza rigida Molto resistente Molto resistente sì Cartone, colori classici Trosmart ritroviamo l'immagine del prodotto ovviamente il logo e vi dicendo più tutti i punti salienti diciamo più importanti della cassa quindi se volete leggere Lasciamo le clip Cosa troviamo all'interno? La parte importante La cassa e la manualistica ovviamente come tutte le volte ma ritroviamo anche delle novità Innanzitutto il cavo USB-C per la ricarica perché grazie oltre a questo un moschettone di cui vedremo l'utilità più avanti nella recensione e anche un cavo AUX Ragazzi ma lei come è costruita? Iniziamo dicendo guardate da voi quanto sia corazzata infatti è proprio uno speaker ragged pensato per essere portato in quelle avventure estreme dove diciamo che l'elettronica non va d'accordo un'esplorazione, un fiume, un campeggio, una scalata in montagna lei non teme nulla e guardate si tratta sostanzialmente di un solido ottagonale in cui troviamo tutta questa cassa, questo sarcofago di gomma resistente pensato proprio per ammortizzare gli urti qui dietro abbiamo un VW per passivo qui sopra, anzi sul fronte meglio dire ancora troviamo la scritta Trosmart bianco su nero e qui proprio la griglia per l'audio girando i quattro pulsanti le cui funzionalità sono tutte spiegate nella nostra manualistica sono tantissime quindi dovete darci un'occhiata e qui abbiamo invece l'appiglio per il moschettone quindi si inserisce e grazie al moschettone potete decidere di attaccarlo dove vi pare insomma sfruttandolo al meglio per anche magari uno zainetto qui sotto invece una vite quella classica tradizionale che ci permette ad esempio di applicarlo su un treppiedi o su una base quindi il design è brutale sicuramente non adatto ai deboli di cuore con questa aggressività così spartano così quasi potremmo dire da fuoristrada in un certo senso non è adatto a chi invece cerca quelle linee pulite, clean come sono della JBL Go 3 parliamo di design molto diverso qui sopra trovate la recensione però si tratta anche ma d'altronde l'abbiamo visto che su delle casse raghe il design non esiste esatto o meglio è pensato per chi lo apprezza è un design esatto vuole un design funzionale che sia funzionale perché questo è oggettivamente funzionale per gli urti funzionale per la resistenza diciamo passabile agli occhi ma comunque resistente non c'è una via di mezzo poi che altro abbiamo qui LED RGB ve li accenno che bel suono abbiamo qui questo ottagono interiore di LED RGB che comunque sono controllabili con i vari pulsanti abbiamo tanti effetti di luce questa è un'altra caratteristica tamarissima inutile però è tamarra però che vuoi fare e poi abbiamo le dimensioni 106 mm per 106 mm per 60 per 60 e in un totale di 480 grammi che pochi non sono ragazzi tenendo in mano è un bel mattoncino fidatevi però insomma la resistenza si paga qui dentro anzi meglio qui dietro troviamo sempre quello sportellino che vi avevo già elencato e un'altra caratteristica che insomma prima non l'abbiamo nominato e la presenza della micro SD perché c'è uno slot micro SD per riprodurre direttamente la musica dalla scheda inserita ultima certificazione che possiede è la IPX7 quindi comunque resistente agli schizzi resistente all'acqua questo non vuol dire che sia fatta a mo' comunque di soundcore cassa motion boom che la butte galleggia la butte galleggia ti va a fondo quindi poi ti devi tuffare a recuperarla per cui e se è troppo fondo la butti direttamente quindi parliamo di connettività reparto molto interessante molto importante come sappiamo su dei prodotti del genere poi anche abbastanza critico alle volte dipende dalla moda cosa troviamo all'interno innanzitutto cosa più importante essendo una cassa bluetooth il chip bluetooth che è un 5.3 ossia ultimissima generazione ok proprio in sincron ok oltre a questo quindi cosa ci porta quali sono le varie features di questo 5.3 risparmio energetico ridotto all'osso se avete un dispositivo che trasmetta queste frequenze ovviamente che per ora non ci stanno ma piano piano usciranno ovviamente delay ridotto all'osso stabilità di connessione una distanza di connessione anche abbastanza ampia solite cose come va va benissimo quindi provo bene bene oltre a questo altre connettività disponibile è l'AUX cavo AUX come abbiamo detto prima il cavo è incluso in confezione potete collegare tranquillamente con il jack da 3.5 oltre a questo è possibile utilizzarle anche in stereo collegando due groove insieme e questa è anche una cosa abbastanza degna di nota per un prodotto low cost infine possiamo anche andare a richiamare l'assistente vocale con i pulsanti dedicati ma come suona un prodotto low cost che finora ci ha mostrato di avere tante tante armi a sua disposizione la risposta è davvero molto bene abbiamo questo qui questo woofer questi 10 watt che ragazzi pochi non sono per una cassina così pochi non sono proprio per niente e non solo sono comunque 10 watt super super interessanti a livello numerico ma poi abbiamo questa risposta in frequenza fra 20 hertz e 20 kilohertz che comunque anche qui un classico un classico però sempre ben gradita ma la qualità all'ascolto è quella che di fatto sorprende perché i bassi sono molto profondi comunque le frequenze medie e alte sono riprodotte più che correttamente più che accettabilmente e quindi questo vuol dire che è sempre gradevole l'ascolto non solo possiamo anche andare a decidere se utilizzare la modalità normal che quindi ci offre quel suono più equilibrato oppure scegliere per la sound pulse che invece va a rendere un suono più pop più caldo più dinamico che quindi spinge un po' di più sui bassi enfatizza un po' di più le frequenze e che per certi generi è sicuramente apprezzabile anche film e contenuti multimediali di sorta molto molto gradevoli troviamo un microfono integrato che definire emergenziale è proprio come dire un regalo che gli stiamo facendo perché sarebbe da dire metteteci un adesivo sopra e tappatelo però dai il budget era finito con il resto quindi basta va bene così passiamoci sopra quindi ragazzi rispetto al sound della Go 3 non c'è paragone qui abbiamo un suono che è proprio a livello di potenza è più del doppio abbiamo un suono più corposo più avvolgente bassi più profondi da questo punto di vista sulle performance la Go 3 proprio viene lasciata anche perché poi anche il V per passivo è il triplo delle dimensioni forse di più quindi non c'è paragone reparto autonomia che è molto importante anche qui è importante e si distingue anche abbastanza discretamente perché la batteria non è grandissima poi alla fine sono 2500 mAh che quindi un po' diciamo rispetto alla Go 3 alt'altro 5 volte più grande ce ne aveva veramente pochissima però anche a livello di autonomia poi sulla carta ci siamo rispetto alla realtà perché parliamo di un 15 ore circa io ho fatto circa 15 ore di ascolto volume massimo e 15 ore per una cassina che poi alla fine non è manco grandissima ci sta sono davvero tanti piccola pecca per quanto riguarda invece la ricarica la ricarica è purtroppo lenta non c'è la ricarica rapida va a 5 watt e ci impiega a tre ore e mezzo circa però se la metti la notte mentre stai dormendo trovi sempre la ricarica alla fine 15 ore di ascolto ti permettono di trovare sempre quel buco di tempo per metterti a ricaricarla concludiamo con il prezzo circa 42 euro sulla pagina ufficiale Aliexpress di Trosmart quindi l'acquistare da lì c'è la spedizione rapida vi arriva a casa in parecchio meno di un mese tipo due settimane una cosa del genere che per Aliexpress è molto buono e considerate anche che ci sono molti coupon molti sconti vi arriva facilmente a 35-36 euro ed è un prezzo buono oggettivamente il prezzo è molto buono molto competitivo molto aggressivo come è aggressivo il prodotto in sé per sé proprio per le caratteristiche che ha abbiamo visto un sound potente e insomma dall'ascolto assolutamente buono abbiamo comunque resistenza bravissima il design una resistenza che sono impareggiabili nel settore non avevo mai provato un prodotto di questo tipo così corazzato autonomia pure connettività connettività che abbiamo detto insomma avere molte possibilità puoi usare l'AUX la Type-C se ti sei scaricato il telefono ci metti una micro SD ti fai una bella micro SD piena di canzoni comunque supporta fino a 2.56 quindi ha voglia sentirti canzoni quindi ragazzi avete tante di quelle possibilità per usarla scenari è molto versatile ragazzi veramente veramente è pronta al peggio un prodotto che mi ha convinto tantissimo e che ve lo dico in questo momento lo sto utilizzando in ogni occasione che si ritenga valida invece di portarmi quel questione di sangue motion boom che ho che ragazzi è intrasportabile ragazzi lei assolutamente super super consigliata se siete indecisi tra lei e l'Ago 3 l'unico motivo per cui scegliere l'Ago 3 è il design se cercate quello ma se voi dite voglio potenza bruta voglio resistenza voglio tutte queste altre caratteristiche lei è veramente fenomenale detto questo speriamo di essere stati noi fenomenali in questa recensione un bel pollicione in su ce lo farebbe veramente capire se il nostro contenuto non è stato di vostro gradimento bravo così e commento box dei commenti sempre libero anche eventualmente per fare domande richieste di sorta abbiamo una bella iscrizione al canale per continuare a seguire i nostri contenuti che si seguono ancora meglio e la campanellina si seguono ancora meglio con la campanella detto questo un saluto da Filippo e un saluto da Mirko